Per quanto riguarda Napoli, ovviamente, io parlo della situazione di Napoli perché sapete l'università di Napoli 2019, ma sono impegnate anche altre città della regione. A Napoli i lavori vanno secondo il cronoprogramma, ho voluto anche accertarmi di persona, di alcuni impianti, altri li visiterò nei prossimi giorni. La Scandone sta venendo bellissima, il Palabarbuto lo stiamo sistemando bene, sta lavorando un gruppo di lavoro davvero serio, anche lì gli ostacoli ci sono, i problemi sono quotidiani, ma ormai questo è un tema della vita, in generale, in particolare di questa città, per le chiacchiere inutili, gli ostacoli e anche certe volte alcune dichiarazioni che non aiutano ovviamente al percorso che stiamo facendo, ma io credo che noi per fine giugno ci faremo trovare pronti, non solo per l'evento che sarà di una potenza assoluta a livello nazionale e internazionale, ma anche soprattutto per quello che è l'infrastruttura e gli impianti della città che poi rimarranno alla città e quindi questa è una notizia davvero importante, utilizzeremo al meglio le risorse economiche messe a disposizione, comprese quelle per lo stadio, non sarà certo il colore dei seggiolini a rallentare la corsa verso l'università.